Sì, è fatto il crescimento Sì, è fatto il crescimento Io non parlerei di demorezza che ha maggiori costi per questo comune e non si sta tra la mano ma stiamo a pezzo ma maggiori costi sono già state autorizzate non si riuscì perché non si riuscì del lavoro Punto 2 Tecnicamente io direi è quello che abbiamo detto che questa amministrazione è una potenza di valigare la legalità della città che agisce contro 5 e decine contro 4 ma la progettazione è una situazione del secondo che il voto è la nuova Quindi, tecnicamente, non possiamo dire di onestà o di normalità Siccome qui siamo accettati a una legalità per quanto mi sembra dalle parole di tutti i consigli questa attenzione deve impegnare affinché percepire l'eventuale responsabilità che se ci hanno prodotto un maggior costo per il comune e sicuramente non passare alla liquidazione dell'impegno preso nel loro compro quindi se no non c'è una responsabilità perché parli a 100 mila euro a dei tecnici che si fanno sfruggendo io credo veramente qualcosa di strano e questo è evitato l'amministrazione interna a dedicare questa situazione a fornire il segno poi questo punto riguarda insomma il corso dell'età ma è vero che non ci hanno dato 20 mila euro di contributi ad una manifestazione ma è stato detto che per il secolo dei voti in San Paese non è arrivato dal campo e quindi io valisco che se il campo è una struttura che non può evitare così come l'amministrazione non si può evitare 5 mila euro che inizia il cittadano quindi questa è la due associazioni che vogliono fare io ringrazio la spazio da tutti i miei l'hai messo in votazione del Stato Guard del Civitano di San Giugno di San Giugno di San Giugno e questo articolo è un articolo del decreto del soggetto di San Giugno di San Giugno di San Giugno dell'U adopting da Lucano dell' 밝asario di San Giugno di San Giugno